benvenuti ai nostri approfondimenti agli approfondimenti di metropolis quotidiano qui negli studi tv di metropolis oggi ospite nicola ricci segretario regionale della cgl campagna salve segretario salve salve a tutti quelli che ci stanno seguendo allora parleremo di tanti temi ovviamente di occupazione di lavoro ma anche di politica di scelte strategiche e quindi lo faremo partendo dall'attualità l'attualità oggi ci consegna Gaetano Manfredi sindaco di Napoli che è presidente del lanci nazionale c'è secondo lei una testimonianza di una rinnovata presenza e partecipazione del sud dalle scelte politiche nazionali io spero che questa si traduca insomma dalla domanda all'aspettativa ma sinceramente va riconosciuto al sindaco Manfredi di avere secondo me ha avuto la grande capacità per l'esperienza di coniugare le competenze perché non lo devo dire io da rettore a federico secondo ha avuto quella grande intruzione sull'apple a san giovanni cioè di università che fosse anche incubatrice di impresa poi Manfredi ancora oggi come dire ha un copyright che è quello che va mantenuto alla proprietà intellettuale in questo periodo di migrazione dei giovani dire che i giovani non devono andare via ma nemmeno i progetti insieme a loro è importante due ha avuto una capacità politica che forse molti non si aspettavano di fare quello che poi non mi avventuro sul campo largo ma per dirla così ha avuto la capacità di essere uomo del dialogo con le istituzioni con un'alleanza sul napoli importante che può essere anche il laboratorio politico che oramai è più di una certezza e poi ha dimostrato al di là delle polemiche non voglio entrarci col presidente della regione campania di essere l'uomo di dialogo con le istituzioni e il governo Manfredi ha la capacità di portare a casa uno dei progetti più importanti del PNRR un miliardo per la città di napoli e per città metropolitana ecco il grande progetto di Bagnoli di un miliardo e pazza che sono un po' le attualità o i nervi scoperte a secondi punti di equilibrio quindi in mezzogiorno sarà rappresentato restiamo anche su questo tema perché la corte costituzionale ha dato una spallata al DDL Calderoli ovviamente il centrodestra dice no ha soltanto chiesto degli aggiustamenti il centrosinistra dice no è una legge morta voi puntate tutto sempre sul referendum? sì noi come Cigelle insieme a UIL partiti politici abbiamo fondato in quel modo costituito quel comitato promotore che aveva e che ha ci tengo a precisarlo un obiettivo l'abrogazione totale della Calderoli quindi andare verso un referendum che dica sì all'abrogazione perché i rilievi che sono stati sollevati da corte costituzionale che sono sette come dire sbarramenti importanti notevoli per tempo non li approfondiamo e sei cinque sei come si dice orientamenti costituzionali per dire sono degli avvisi guardate ha un tema sotto che la Calderoli non viene abrogata quindi c'è il tema che in questo paese 23 materie concorrenti e Zaia in queste ore sta cercando di portare a casa le competenze sulla protezione civile è affiancato da 500 funzioni io vorrei che chi ci sta seguendo capisse che il tema di questo spacchettamento spacchitali di tante regioni piccoli statarelli portano dentro 500 funzioni con risorse personale ecco per questo motivo e anche per questo motivo state preparando uno sciopero generale contro il governo Melluni che cosa non vi piace di queste politiche forse soprattutto da quello che leggiamo in questi giorni in materia sanitaria e oltre che in materia fiscale e in materia di sviluppo economico provocatoriamente la vista è lunga io dico solo trasferisco solo due tre nostri obiettivi uno è una manovra finanziaria fatta di restrizioni che non dà risposte salariali non aumenta le buste paghe, non dà risposte ai cittadini, ai pensionati, ai lavoratori, ai lavoratrici e poi è una manovra che anticipa sette anni di sacrifici due io credo che sia il tema che le grandi riforme in questo paese le grandi risposte a questo paese dalla sanità dalle politiche industriali che mancano da tutto quell'istruzione tutto quello che è anche il sociale hanno bisogno di risorse ma politiche il tema è che è una finanziaria che non mette nei risorse non fa intravedere politiche la sanità e la chiudo brevemente noi siamo una regione in cui 444 milioni li spendiamo li spende la regione Campania per far curare i cittadini a nord la sanità da questo punto di vista questo governo fa solo propaganda per il 2025 vuole investire solo 800 milioni ecco da ragioner fantozzi direi 440 milioni rispetto all'immigrazione sanitaria e 800 milioni di investimenti per tutta la sanità nazionale mi sembra davvero una prova provata che è solo propaganda su questo tema però c'è un neo nel senso che l'unità sindacale non è completa questo è un dispiacere per voi avreste voluto essere uniti in questa battaglia? io non entro in polemica perché non abbiamo cercato noi la rottura c'è un tema molto delicato che è la rappresentanza in questo paese le scelte che fa un governo vanno fatte con il dialogo, con il confronto e avere sigle sindacale che a prescindere l'ultimo incontro è stato un incontro di 5 ore con 12 sigle io lo ricordo anche per un po' di orgoglio e identità che CGL e Willi in questo paese rappresentano la maggioranza se si sceglie e non siamo noi a rompere di dire sì a prescindere senza entrare nel merito dei confronti sui provvedimenti che deciderà per questo paese è una scelta che fa la CIS rompe l'unità sindacale noi abbiamo un'altra idea per il paese e non siamo un soggetto partitico perché si strumentalizza e noi siamo un soggetto insieme a noi il politico fare politica in questo paese significa proporre riforme proporre modello di sviluppo e soprattutto proporre anche soluzioni agli atavici problemi di questa nostra regione ma soprattutto di tutta l'Italia veniamo adesso ai nostri territori ma affrontando anche un tema che purtroppo è un tema nazionale a Ercolano tre giovani morti in una fabbrica di fuochi abusiva segretario come si ferma questa mattanza? lì è davvero incredibile perché quello che leggiamo in queste ore gli accertamenti che stanno venendo fuori abbiamo un duplice e triplice problema al di là della tragedia dei morti sul lavoro abbiamo un tema dell'illegalità lì sembra che davvero ci sia un covo di grandi circostanze negative che vanno aggredite il tema è che a fronte di questi contini e noi siamo la terza regione purtroppo su morti di lavoro occorrerebbero dei provvedimenti d'urgenza questo governo non vuole intervenire sul provvedimento d'urgenza che è fatta di prevenzione, vigilanza ispezione, risorse anche qua formazioni e assunzioni ma soprattutto lo voglio dire il cambiamento culturale viene nel tempo noi abbiamo bisogno di provvedimenti c'è una legge e la chiudo qua che dal primo ottobre sulla sicurezza sul lavoro è stata cambiata ed è andata in vigore la famosa patente appunti in cui consegna alle aziende il fatto che hanno un anno di tempo perché autocertificando che hanno criteri di rispettare le leggi e i contratti hanno un anno di tempo in qualche modo per dimostrare che questo avviene e una volta che dimostrano che hanno i connotati di ogni età hanno ulteriori dieci giorni perché verranno avvertiti prima di un'ispezione che di lì a dieci giorni verrà io credo che si stia affrontando il problema in maniera sbagliata abbiamo bisogno di provvedimenti per fermare quelli che sono omicidi omicidi e sono morti tragiche sul mondo del lavoro complesso e complicato ecco lei prima di venire ai nostri studi è stato a un'assemblea a Fincantieri a Castellammare anche lì si sta giocando una partita importante per lo sviluppo ma qual è anche la strada secondo lei per lo sviluppo dell'area torrese stabiese dopo la crisi industriale solo turismo? io sono entrato negli anni 80 nel sindacato e uno dei temi come Camera del lavoro come Cigelle Napoli era la crisi dell'area torrese stabiese ora voglio dire negli anni 80 oggi al di là di rilevare la mia età anagrafica c'è un tema delicato bisogna che le istituzioni e oggi credo che quest'area anche da un punto di vista politico dell'area che si respira abbia una nuova stagione abbia un po' di ottimismo c'è da fare sistema perché bisogna trovare l'equilibrio tra le attività industriali Fincantieri in primis e la vocazione turistica se non si trova questo equilibrio davvero noi avremo due parti importanti due grandi potenzialità che se non ragionano insieme se non si programmano insieme possono diventare due debolezze Fincantieri deve avere la certezza di produzione risorse e anche come dire un po' come avviene con la panda pomigliano bisogna non fare tronconi o spezzatini di produzione bisogna fare una filiera produttiva completa sul sentiero e canteristi che il turismo deve trovare l'equilibrio tra interessi di soggetti privati siamo in democrazia l'imprenditore deve fare utili interessi ma anche la salvaguardia del territorio e come valorizzare questa bellissima zona che tutta l'area torresa è stabile poi c'è il tema del lavoro bisogna dare anche rispotto occupazionale questa è un'area che soffre all'interno della provincia di grandi numeri negativi sull'occupazione io non credo che ci voglia molto ci sono due amministrazioni nuove c'è il nuovo sindaco a Castellammare il presidente di Luca a netto della campagna elettorale disponibile a mettere le risorse sul campo il sindaco Manfredi come sindaco della città metropolitana e anche presidente di Lanci ragioniamo con chi ci vuole stare ma progetti e risorse non ci vuole molto allora ringraziamo Nicola Ricci segretario regionale della CGL grazie per essere stato con noi per aver chiacchierato su temi che sono temi ovviamente di grandissima rilevanza pubblica grazie e alla prossima volta grazie a voi grazie grazie a tutti